Sono Aldeni Marzio, Villa D'Addese, nato a Bergamo, ho 46 anni, ho due figli, uno di 10 anni e uno di 23 anni. Sono imprenditore, sono sceso in lista con la lista ELA, perché essendo da 25 anni nel consiglio direttivo della sportiva e sempre insieme ai giovani, mi sono reso conto che a Villa D'Adda non ci sono attrezzature o quelle poche che ci sono sono limitate per far sì che i giovani di Villa D'Adda si possano ritrovare tra di loro e possano creare quegli indotti e quelle amicizie che li fanno crescere, che sono il futuro del paese. Sono consigliere di compagnia delle opere in provincia a Bergamo e sono vice coordinatore di Forza Italia.